Pizzeria Megalitos a Solarino, qualità e tradizione dal 1995. L'utilizzo esclusivo di ingredienti di primissima scelta rende particolarmente gustosa e digeribile la nostra mitica pizza. Rigorosamente cotta nel forno di pietra a legna e disponibile anche con impasto integrale e senza glutine. Inoltre potrete gustare i piatti della cucina tradizionale toscana, con vari tipi di tagli di carne di qualità. I nostri ampi locali consentono l'organizzazione di ricorrenze ed eventi, con la partecipazione di gruppi numerosi. E mentre voi degustate le nostre specialità, noi ci prendiamo cura dei vostri piccoli, lasciando dar sfogo alla loro voglia di libertà. Con un vasto spazio giochi visibile dai tagli, pizzeria Megalitos a Solarino, la qualità e il nostro punto di partenza.